Mancano gli infermieri, l'azienda non li prende, la gente lo deve sapere questa cosa, perché gli infermieri sono da sempre dalla parte dei cittadini, sono sempre stati insieme alla popolazione, però non ci danno le risorse. Perennemente sotto organico, questa la voce forte e chiara che arriva dagli infermieri del NURSIND, il sindacato che ha organizzato questo flash mob di fronte all'ospedale Santa Maria della Gruccia in Valdarno, un problema però che non riguarda soltanto questo presidio ospedaliero, ma che riguarderebbe, secondo il sindacato, tutta l'azienda ASL Toscana Sud-Est. Diciamo ai nostri pazienti state tranquilli, noi siamo in grado di darvi un'assistenza di qualità, però diciamo comunque ai nostri pazienti attenti perché i nostri infermieri, i nostri OSS, coloro che vi stanno dando l'assistenza sono stanchi, cominciano a essere stanchi perché lavorano sotto organico, perché lavorano con una dotazione organica, e lo ripeto, dotazione organica vecchia di decenni. A noi si lavora al minimo del personale tutti i giorni della settimana, quindi una persona per settore, settori sono anche di 15 persone. L'azienda sanitaria ha annunciato nei giorni scorsi la delibera per l'assunzione a tempo indeterminato di 199 persone, di cui 146 infermieri, 29 ostetriche e 24 OSS in tutta l'area vasta. Ma, secondo il sindacato, non bastano. Era previsto che io mi prendevo la mia settimana di ferie di Natale, mi toccano una volta ogni sei anni, metà delle mie ferie sono sparite per mancanza di personale. E da gennaio andrà a pensione un'altra collega e ancora non abbiamo notizie. Unico sindaco del Valdarno presente al Flash Mob, Silvia Chiassai, sindaco di Montevarchi, che ricorda di aver chiesto alla Regione Toscana di far diventare il Santa Maria della Gruccia un ospedale di primo livello. Non riesco a incontrare l'assessore regionale, non riesco a avere informazioni certe sul destino di questo ospedale. Il sindaco da presidente della provincia non riesce a incontrare la Saccardi? No, è un anno e mezzo, mi aveva dato un appuntamento dopo un anno e mezzo, adesso a dicembre, poi me l'ha disdetto, io non riesco a avere notizie. Senta, ci sono delle divise attaccate al muro del Santa Maria della Gruccia? Sì, sono i nostri colleghi che in questo momento non possono venire. Questo è il loro segno di solidarietà nei confronti di chi sta manifestando. È bellissima questa cosa perché in questo momento noi sappiamo che dentro ci sono decine di colleghi che stanno veramente sacrificando, che stanno facendo il loro lavoro con qualità, con impegno. Questo è il loro modo per dimostrare la vicinanza a chi sta manifestando oggi qui davanti.